Oh, Simo, sono giorni che ti stai cercando. Ma ma c'è, non c'è niente. Come sei? Sto bene. I soldi miei? Che soldi? Come che soldi? I soldi che mi devo aiutare. Che soldi hai dovuto? A parte tua? I 10.000 euro, sì. 10.000 euro. Non c'è stanno i 10.000 euro, Marcello. Un po' eccessivo. Simo, come eravamo rimasti? Se ti servono i soldi, ci ho questi. Trocchiotti, vediamo? I spicci di voi donè. Tiè. Simo, ne mi devi dare 10.000 euro. Mi servono. Che è questo, intanto? Mi sono fatto un anno di galera per te. E' questo ammazzetto. Vedi che sono cambiato io, hai capito? Non so più quello di prima. Ti vedo, si uscite le palle, si uscite. Guardate. Tira un po' in destra. Tira in destra, fammi vedere, dai. Fammi vedere, tigre. Ci stanno i soldi, ti ho incazzato. No, non mi è cazzo proprio io. So calmo. Mi devi dare i soldi. Simo, mi devi dare i soldi. Ah, ma c'è. Dai. Se no, mi dai il chiave della moto. Non mi mette paura così, però. Così mi mette paura, Marcelli. Parlamo domani. Non mi mette paura così, ma c'è. Non mi mette paura così, ma c'è.